Cosa che amo molto del caffè, o comunque della generosità napoletana, proprio il fatto che abbiano inventato il caffè sospeso, la pizza sospesa, che c'è una cosa, una cosa per me... Chi era felice o aveva avuto una bella notizia, pagava un caffè sospeso per chiunque venisse dopo, insomma, c'è una cosa, di gran parte di questo popolo, insomma, quando le cose, diciamo, sappiamo donare anche in condizioni magari... Perché nessuno si sente abbastanza povero da non potersi permettere un caffè, c'è una condivisione, un caffè si offre sempre, insomma, sotto quando si è gioiosi, a chiunque sia, non era un interesse diretto, un parente, ma un amico, una persona che veniva dopo poteva... Tu non lo sai, capito? Tu paghi il tuo caffè e poi dici che questo è un caffè sospeso, e vai via. Da un napoletano come te.